Salvatore Caruso Salvatore Caruso mi diceva guarda quel ragazzo laggiù si parlava di tre campi oltre a quello cui eravamo davanti sostanzialmente quel ragazzo può diventare davvero bravo non è da tanto che fa seriamente il professionista perché ha studiato Caruso ha fatto liceo scientifico liceo pubblico e poi sostanzialmente dai 18-19 anni ha iniziato a fare sul serio allenandosi in maniera continuativa infatti fino a quell'età praticamente non ha mai giocato all'altissimo livello, ha tentato qualche qualificazione challenger ma davvero poca roba. È un giocatore che ha migliorato tantissimo nel corso degli anni prende come punto di riferimento Paolo Renzi che è un grande punto di riferimento, un grande esempio perché non è detto che bisogna arrivare per forza a 18 anni, neanche a 20, neanche a 22 Renzi sostanzialmente a 27-28 ha fatto un po' il salto poi quello definitivo è arrivato addirittura a 30 quando con continuità ha giocato a livello ATP. Caruso ha un rovescio fantastico, lo avete visto, è migliorato molto nel servizio non tanto nella potenza quanto negli angoli nei tagli, il mondo in cui riesce a comandare lo scambio subito dopo il servizio, il rovescio è fantastico come detto l'avrete visto, il dritto anche è migliorato molto, ricordo tre anni fa mi pare durante le prequalificazioni nel Fuoritalico parlando con Diego Nargiso di un paio di tutti i ragazzi giovani italiani che c'erano all'epoca stava ancora seguendo già Luca Magher e mi disse guarda Caruso è uno di di quelli che sta migliorando di più, uno di quelli che può arrivare su perché ha tanta voglia e lavora molto bene. Dieci anni di lavoro con coach Paolo Canova momenti difficili, momenti molto buoni, una cosa che mi ha detto Canova in questi giorni è che voglio riportarvi, mi ha detto sostanzialmente Caruso è sempre cresciuto, nel momento in cui è arrivato in una classifica l'ha mantenuta, non è mai calato non è mai tornato indietro anche se la scalata evidentemente è stata un po' lenta a livello di ranking mi ha detto se l'ATP decidesse così da un giorno all'altro di regalare dei punti a Caruso e di portarlo al numero 50 del mondo sono convinto che Salvatore riuscirebbe a rimanere in quella classifica perché riesce subito a salire di livello ad adattarsi a quel livello e a confermare i punti quello che ha sempre fatto migliorandosi sempre leggermente nel corso delle stagioni ovviamente adesso c'è un compito praticamente impossibile contro Novak Djokovic il torneo Caruso già lo ha vinto è arrivato al numero 120 nel mondo circa e l'ingresso nei primi 100 se riuscirà a mantenere questa qualità è soltanto una questione di tempo